Da quando abbiamo adottato Jack, con Advantix gli diamo tutta la protezione che ci merita. Lui ha reso la nostra vita più bella. Advantix protegge da pulci, zecche, zanzare e pappataci e crea una barriera repellente che protegge anche dal rischio di lesmaniosi. Dopo l'applicazione sul cane è attivo contro le larvi di pulce in casa. È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti. Advantix, contro parassiti, lesmaniosi e larve in casa. Da Bayer